Il tema dell'istruzione che vede il nostro Paese rispetto al numero dei laureati in una posizione di classifica drammatica ci deve indurre in questa fase di ripartenza a lavorare molto su questi temi perché l'istruzione universitaria, l'istruzione superiore in assoluto e soprattutto il controllo di quello che i nostri giovani nel percorso formativo più avanzato devono ottenere ci deve indurre a lavorare moltissimo anche sull'evitare gli abbandoni ai corsi universitari questo è un rischio che dopo la pandemia è molto alto i dati dell'invalsi pubblicati recentemente ci descrivono una situazione che sta drammaticamente peggiorando abbiamo quindi il dovere anche come università di mettere in atto dei progetti di tutorato per fare in modo che i nostri giovani non solo possano laurearsi in tempi ma che non abbandonino